Ragazzi, piccolo pre-video perché devo scusarmi se questo video qui laggerà aliole di gameplay, non so il motivo, di solito ARK mi va intorno ai 60 fps, vedo che oggi la webcam sta laggando un po', perde qualche frame, porca puttana, sto telefono di merda. Cerco di risolvere perché ragazzi vi giuro è la 1 e mezza, ci siamo messi lì con Espi stamattina alle 10 e un quarto per fare questo video e con Marce, è stato davvero un parto farlo, ve lo assicuro, quindi ragazzi vi lascio il video, superate la serie. Ciao ragazzi, qui è Marce e bentornati in questo nuovo video, ci troviamo oggi finalmente in inizio di una nuova bellissima serie ragazzi che riguarda i Pokémon, un Pokémon survival su ARK E davvero io sono molto molto felice di portarvi un gioco che è diverso da Minecraft ma che comunque ci possiamo ricollegare alla nostra bellissima sopravvivenza che magari riviviamo ogni settimana nella bellissima Pixelmon. Come vedete ragazzi siamo in un bellissimo mondo di ARK dove in qualche parte qua in giro ci potrebbe essere un bellissimo Pokémon, come vedete siamo sposati in una bellissima zona di forest, già magari possiamo trovare qualche Pokémon in zona. Da subito io vi invito a lasciare un bel like e un bel commento e a supportare l'inizio di questa nuova bellissima serie con un bel mi piace perché davvero ci tengo tantissimo. Siamo in compagnia di tanta bellissima gente che è anche in descrizione quindi se volete magari passate agli altri ore oltre che al bellissimo Tierloss a Marce e a Deren ci sono davvero tante ma tante altre persone. Io già qua in zona vedo un bellissimo villaggio, oh ma lì vedo già un Torchic, oh mio Dio ma che figata. Regà allora a differenza della Pixelmon qua i Pokémon sono texturati come se proprio esistessero nella vita reale. Quindi dov'è il bomberissimo qua? C'è un... dove ho visto qua in zona un Torchic che si muoveva? C'era un bomber Torchic. Dove... dove è andato? Dove cavolo è? L'ho visto ve lo giuro c'è... c'era un Torchic. Lai in fondo vedo un Espy. C'è un grandissimo Espy qua in giro eh. Ma io voglio il Torchic, non voglio l'Espy. Piero? Ce l'ha un Piero? Ma raga ma ce l'ha un Piero? Ciao Marco cosa ci fai vicino a questo villaggio? Ciao Piero! Ma io ho visto sto villaggio qua, ho visto un Torchic qua in giro, l'ho perso, ho trovato un villaggio. L'ho trovato un po' Naita e sto rubando tutte le bacche in giro. Ma guardalo! Sei un ladro! Sei un ladro di bacche. C'è sto villaggio, sai? Ma sai che anch'io, perché ho visto prima un nome e ho detto ma c'è qualcuno all'interno del villaggio, mi sa eh. Guarda che fotte le bacche e si disinteressa di me. Allora mi fottò anche le bacche. Andiamo, andiamo nel villaggio. Andiamo nel villaggio, andiamo nel villaggio. Ma vedo che ci sono dei Pokémon dentro. Eh sì. Credo sia abitato. Ma secondo me c'è qualcuno, infatti vedo un nome l'e'n'alto. Chi siete voi? Oh, oh, c'è un Espy. Salve. Ti osservavo da lontano. Buongiornissimo. Cosa volete da questa parte? Ma mi scusi, ma lei? Stavamo... Non posso inquistare, siamo nudi, siamo nella... siamo nella cacca proprio. Eh, insomma. Sono il portinaio sottopagato perché Tearless è andato a prendere le sigarette e non torna più. Sigarette su Ark. Ma mi scusi, ma lei almeno... È possibile entrare? Esatto. Forse, qual è la parola d'ordine? Barba. Ok. Voi potete entrare, tranquillamente. A posto. Più o meno comunque... A quanto pare conoscete molto bene Tearless. Esatto. Il signore SpiGiochi potrebbe cortesemente aiutarci un attimino nella nostra impresa di catturare un piccolo Pokémon. Uno, eh, non troppo. Noi siamo nuovi di questa... Ma in realtà stiamo cercando anche dei nuovi inquilini per queste case, non siete interessati per caso? Ma guarda, io una casetta sarei un pochino interessato, sinceramente. Ovviamente lei ha i crediti per pagare queste cose, vero? Guardi, se vuole, le regalo un rasoio per rifarsi la barba, perché la vedo un po' messa male. È un Miracle Blade, vero? E io le regalo... Non c'è tanto Miracle Blade. Sì, sì, guardi, aspetta... Io le posso dare un Steam Bacca. Guardi. Ottimo, ottimo, è sufficiente. Tanto le diamo la casa più schifosa fra tutte, quindi... Io le ho droppato là per terra un rasoio dietro di lei. Guardi. Ah, grazie. Ho una certa dipendenza per queste bacche. Ah, perfetto. Dite la mia moglie, però. Ma Marci, si è fottuto il rasoio. Ti ho visto? Aiuto? No, ti ho fottuto il rasoio, Espy. Va bene, va bene. Tanto a me piace la barba. Ah, ok, è onesto. Ogni tanto mi fondo. Fondo la mia con quella di Tearless, quindi devo assolutamente tenerla lunga. Ma qual è casa mia? Vi presento le due casette. Grazie. A lei, Sir Mark, questa. Uh, che top. Ma il lettino quanto è bello. Oh, mio Dio, che piccolo. È bellissimo. L'abbiamo fatto su misura. Grazie, grazie. Davvero molto bello. Marci, no, Marci, no. Ma, 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 ma. Scusi, Sino Piero. Lei, come si permette? Vabbè, chiamo il 118, eh. Sia attento. 118! Sono venuto su Ark, che non so ne cosa è una ruota, probabilmente, tra un po'. Allora, siete pronti, signori? Assolutamente sì. Visto che mi avete dato delle bacche, da cui sono estremamente dipendente. Due bellissimi archi. Grazie. Una testa, non litigate. Mi ha rubato! Eh, ma me lo sono preso io, Medda. E delle frecce. Perché, ovviamente, i Pokémon si catturano così. Le Pokémon sono troppo vecchie a scuola. E Cloroformio, ogni tanto. Oh, che bene è essere il Cloroformio. Allora, aspetta. Com'è che si mette l'arco, raga? Paura? Ok, Manu. Manu? Ok, no. L'ha trascinato su Manu. Provi casomai su Mark. No! Se no. No. Aiuto. Allora, quindi adesso dobbiamo andare con l'arco tirato così in mano a centrare Pokémon, giusto? Dove siete interessati a trovare il vostro primo Pokémon? Ma io seguirei prima Marci, però io prima ho visto un laghetto qua in zona che mi piaceva davvero tantissimo, quindi io vorrei anche spogliare quella zona lì perché era davvero tanta, ma tanta roba. Quindi un girettino lì lo farei dopo Marci. Oh, assolutamente. Forse però vedo i primi Pokémon. Oh mio Dio, che palle gialle tenere sono. E un Senstryu, un altro Senstryu. Femmina. Ciao, piccola. E un altro Senstryu. Che be... Che cucciolo, ciao. Sono troppo tenerosi però, raga. Sono delle palline gialle tenerissime. Troppo. Unigro femmina. Non è mega tenero, raga, ma dai. È tenerissimo, ma raga, ma sono troppo fatti bene. Sono troppo cicciottosi. Siete innamorati? Volete prendere questo o volete aspettare il prossimo? Non lo so. Ma io voglio aspettare il prossimo così a caso. Magari sarà il migliore, no? È gigantesco sto posto, raga. È enorme. Ti prepari a correre però perché sono abbastanza incazzosi. Aia. E quanti, preparatevi. Aia. Io non riesco a beccarlo, raga. Ah, perché se ne attacchi uno poi attaccano tutti? Oddio, corri, 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 Piero, 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 vai. Correte, raga, correte, espi, corri. Giù, arriva un altro. No, è morto, Piero. No. È ucciso il Pokémon che volevo. C'è un Qubon che si è appena suicidato. No, povero Qubon. Mi fa il Qubon un po' in colpa. No. Non cadere Qubon. No, non farlo Qubon. No, 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 no. No, no, no. No. Vabbè, raga, questo qui sarà il prescelto. No. Nessuno vuole essere il Pokémon di Marci. Peccato, raga. Prendilo. No, raga. Cacchio. Oh mio Dio, vedo... C'è un Qubon con una torcia. Guardalo. È vero. Raga, sono diventato un Qubon. È bellissimo. Che Qubon, Marci. Vieni qua a De Farte che ti ammazzo. Ti sto per frecciare. Ti sto per frecciare. Non litigate subito. C'è un Qubon con una torcia in mano o in bocca. Come farci a togliermi dal cavallo? Io volevo andare al laghetto, raga. Prima me l'è piaciuto davvero tantissimo. È laghetto qui in basso. Volete che ci tuffiamo? Ma... Ma sì, io mi tuffo. Proprio aggressivo. Non intendevo proprio qui. Ah. È morto? Ah. Espi, però se mi dici... È qua sotto? Io... Capisci? Non ci credo. Mi lancio. Il mio Qubon se mi butto poi mi segue... Non ha guardato nemmeno... Eh, non ti conviene buttarti, altrimenti si butta anche il tuo Qubon. Questa volta puoi buttarti veramente. Questa volta è qui sotto sicuri? Questa volta... Oddio, un po' sicuri. Più o meno, vado? Ho paura. Buttati! Noi ti seguiamo, forse. Mi butto, eh. Mi butto. Mi butto! Ok, ok, qua sotto, ok, qua sotto. Perfettissimo. Sto cadendo... No, mi sa che cado sulla terra. C'era un lago gigantesco. Sono caduto sulla terra. È caduto? Guarda com'è caduto. Sono caduto... Sono spicchioli, sono spicchioli. Marci, vieni a vedere com'è caduto. Perché scegli sempre i luoghi strani dove buttarti? Ma c'era l'acqua! Ma c'era l'acqua, ve lo giuro! Sei veramente un disastro. Ma Mark, è che lì era... Ti butti sempre sulla secca. Oh, raga, ce l'ho fatta. Raga, sono in acqua. Dove sono morto prima? Ah, là. Ok, vi vedo. Ciao. Ok. Guarda che bel cadavere che hai lasciato prima. Non picchiaro, non picchiaro. Ah, ma proprio in piedi? Cioè, quello lì sono io. Io mi sono foscevo una statua. Ma quanti Pokémon ci sono qua? È pieno Zeppo di Machamp. Dove vuole andare? Andiamo verso la foccia del fiume? Ma sì, andiamo verso la foccia del fiume. Dai, andiamo. Io seguo lei. Espi, io sono nella corrente. Seguiamo, direi, questo corso qua di fiume. Però manderei avanti te perché sei il più fidazzo, secondo me, del gruppo all'interno di questo mondo. Ma questo mi preoccupa un po' a vervi dietro, però... Ma, caro Espi, solo un piccolo salmone che nuota davanti ai nostri bellissimi occhi, sappilo. Guarda come risalgo la corrente bene. Se è la nostra stella. No, salmone, dove stai andando? Seguiamo te, caro Espi. Marci, dove ho finito? Dove è, Piero? Non mi ha scambi niente. Piero, Piero, Cam, Cam, Piero. Uh, vedo qualcuno lì in fondo. Uh, dove? Ma ti faccio un strano. Destra o sinistra? Alla nostra destra. Uh, proviamo ad andare a destra, allora. Mi fido il buon Espi, vediamo cosa c'è. Che camminano qui? Oh, là in fondo, l'ho visto anch'io. Ma, mi sembra un Ralts? Sì, ci sono un po' di Ralts qua in... Qua c'è un Ralts maschio. Io proverei a frecciare questo, quasi quasi, giusto, frecciandolo. Così. Ok. Uh, corri, corri, corri. Ok. È molto cattivo. Ok. È molto rabbioso. Corri, corri, corri. E i suoi compagni potrebbero aiutarlo. Ok. Uh, sta scappando. Uh, sta scappando. L'ho preso. Seguilo, attento a te di Ralts. Attento a te di Ralts. Tranquillo, tranquillo. Te lo teniamo buono. Ok, va bene. Ora puoi tornare qui e addomesticarlo. Arrivo, bomber. Ok, raga, raccolgo un attimino tutte le cose del mio inventario e poi lo addomestico per bene. Devo dargli la carne e le bacche, giusto? Se non erro, non so un attimino come funziona. Marci, come hai fatto te? Ok. Io vengo qua da Ralts, quindi gli do nel suo inventario la carne cruda. Io ne ho dato tantissimo. Esattamente. E qualche bacca gliela lascio. Molto carnivoro, come puoi immaginare. Non vedi, sto Ralts. Ma c'è anche gli occhietti. Ok, è addomesticamento. Sì, sì, è addomesticamento. Intanto. Guarda, guarda gli occhietti. Vediamo. Sdraiati. Allora, aspetta. X. Oddio, che cosa tenera. Che bellini. Che belli, mi piacciono. Non pensavo che avessero gli occhi Ralts. Neanche io, sinceramente. Però è addomesticamento. Neanche io. Ma sapete che forse è la prima volta che li vedo? Io non vi guardo perché ho paura di voi. Ho paurissima, raga. Mollalo, mollalo. Devi guardarlo e premere. Non riesco a lasciarlo, non riesco a lasciarlo, non riesco a lasciarlo, raga. Vedo un Piero che sta seguendo la corrente. Non riesco a lasciarlo, raga. C'è una cascata là in fondo. Non andare troppo in là che c'è la cascata. È tuo. È un nome al tuo alz. Chiamalo Cavallo, ti prego. Io lo chiamo... Vediamo. Piero. Clavicembalo. A quanto pare... È un maschio o una femmina? È un maschio, è un maschio. Allora clavicembalo. Cembalo. Clavicembalo. Cembalo. Mi sa che Marci ti ha rubato il tuo ralz. Come mi ha rubato il ralz? Non ho fatto niente. No, no, raga, segui Defard, c'è scritto. Sono sicuro. Sì, ma io sono dentro di lui, non so perché. Sacco di merda, esci dal mio ralz. Come faccio, scena? Non so neanche come sono entrato. Non rubervi in Pokémon. Raga, come faccio? Seriamente? Premi, premi. Ok, sei uscito. Ciao, clavicembalo. Clavicembalo di Defard. Mamma mia. Che benessere. Ho un Pokémon anch'io, raga, top. Però mi raccomando, trattalo bene. Se no scappa poi. È il mio piccolo clavicembalo, ovvio che lo tratto bene. Oddio, ma posso cambiare il nome al tuo Pokémon? Ma what? Di notte saprò cosa fare. Ah, è spiccio il nostro clavicembalo. Però Marci ci ha abbandonato. Prende, va. Lui va così. Prende. Dove sei andato, Pirla? Posso, posso dirlo. Sono dietro di voi, sopra il fiume, sto arrivando. Ma tuvi? Oh, per tolvi. Non abbiamo tempo di aspettarlo. Andiamo avanti, dai. Infatti, io proverei un attimino a esplorare in questa zona qua. Magari c'è qualche altro po'. No, Espi, che cazzo è quel robo là? Oddio. Lo vedi anche te? Sta volando? Ma c'è la coda gigantesca. Ma no, ma è Mewtwo. Espi, è Mewtwo quello. No, Espi, sono sicuro. Tira fuori l'arco. Ce l'ho. Sto provando a frecciarlo. Sto provando a prenderlo. No, 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 sta scappando un po' delle frasche. Sto scherzando? No, frate, c'era Mewtwo, sono sicuro. Brigati, ma dove sei ancora? Sto registrando. Ancora il fiume. Spicciati. Frate, dove sei? Espi? Ma stai registrando? Sto registrando, sì, sì, era la parte finale. Stavo per stoppare, ma sì, sto registrando. No, frate, non lo vedo più. Andai su mezzo le foglie. Aspetta, vado a controllare. Io guardo qua in zona intanto. Tu guarda lì in zona, bravo. Ma scusa, devo frecciarlo. Devo frecciarlo come è successo con Rals, no? No, non lo vedo più. No, infatti, nemmeno fra le cascate c'è. Che palle. Marci, ti sei perso una roba. Te lo giuro, Mewtwo, sono sicuro. Ma ci credo, guardo nel video. Che palle, niente.